Una bella soluzione me l'hanno dato per risolto. Mi è piaciuto il lavoro che avete fatto e mi sono trovato a mio agio di tutte le cose. Perfetto. Mi chiamo Bruno Cesare, vengo dalla provincia di Chieti, ho sentito pubblicità su internet e mi sono informato e ho chiamato la clinica. Ho messo tutti i denti di dietro e uno dall'altra parte e mi trovo contento di tutto questo lavoro che avete fatto. Mi piace la città, andare in giro, dopo tutto lo staff che mi ha portato in giro, il cuore, bellissimo e mi sono trovato molto bene.